Siamo per celebrare la madre di tutte le veglie, ma in questo giorno si fa silenzio. Noi in questo silenzio ascoltiamo la voce di Dio attraverso Padre Ernesto della Corte. Ben trovato Padre Ernesto. Buon sabato santo. Il giorno più lungo di tutto l'anno, o come qualcuno lo chiama Anna Maria, il giorno fra mezzo, perché è tra il giorno della morte, il venerdì e l'attesa della Pasqua, di questa veglia che questa notte noi celebriremo. Esatto. In questa giornata si consuma nel silenzio un'attesa fremente di gioia. Ma guarda, sono due giorni unici, il venerdì santo e il sabato santo. E credo che siano anche giorni ancora poco valorizzati dalla pastorale. perché oggi se uno entra in una chiesa trova solo chiasso, si mette a posto tutto, si va a pulizia. Invece no, questo è un giorno unico, anche nel ritmo liturgico. L'hai detto tu all'inizio, è un giorno di silenzio e di attesa. Ma quando dico silenzio e attesa non vuol dire che non ci sia il richiamo della parola. Abbiamo ascoltato tanta parola in questa quaresima. Nel giovedì santo, la messa in cena domini, ieri abbiamo commentato quella lunga passione di Gesù che ancora stamattina noi dovremmo riprendere nel silenzio e nell'attesa, nella meditazione. Perché vedete, è interessante anche nella vita del cristiano questo silenzio. Ci dobbiamo confessare che tante volte questo giorno ci sembra scomodo, sembra vuoto. Non è un caso che fino a qualche decennio fa si diceva quasi rubato, sottratto, perché in definitiva sembra che a che cosa serve nella liturgia. Per cui mia mamma mi diceva sempre che il sabato già sparavano la gloria e annunciavano già la Pasqua. Con la riforma invece del triduo pasquale è stato veramente interessante avere questo giorno così importante. Il giorno del silenzio in cui deve risuonare la parola che è Cristo, che ieri abbiamo contemplato in questa meravigliosa scena della passione secondo Giovanni. Per cui dovremmo rivivere il silenzio e il vuoto di quel sabato sacro. In realtà c'è di darsi non tanto da fare, non bisogna, come dire, imparare a fare tante cose per mettere a posto per la veglia di questa sera, ma soprattutto questa mattina noi dobbiamo davvero imparare che dopo quella riforma di Pio XII il sabato santo ci viene dato come il giorno della grande meditazione. Il giorno del sabato santo che i padri tanto amavano, perché è il giorno di ascolto delle sante scritture. Noi dovremmo riprendere un po' tutto un Vangelo, rileggerlo. Il sabato santo appare come il giorno nel quale nulla è stato detto di Gesù. Morto e sepolto il giorno prima, i Vangeli non ci dicono nulla, ci consegnano un silenzio. Anche la comunità di Gesù è in silenzio, in attesa. Sono delusi, lo leggiamo nella pagina di Luca 24, sono delusi, addirittura Cleopo e l'altro discepolo scendendo verso Emmaus, il paese delle terme. Sembra un giorno che deve passare anche in fretta. Speravamo. Quanto è forte quell'espressione. Invece questo giorno ci mette in uno stato di attesa, perché lo stato di attesa, se ci pensiamo bene, è veramente cristiano. Il cristiano è un uomo che vigila, che attende, che sta sveglio. Abbiamo iniziato l'anno liturgico con l'avvento, l'adventus. Noi stiamo in attesa di questa venuta, la venuta che sarà stanotte nella vasco. Il sabato santo potremmo anche chiamarlo il giorno del riposo di Dio, secondo la vita di fede giudaica. Il giorno in cui quel corpo morto di Gesù, il di sera, è stato messo nella tomba a riposare. Era il venerdì del 7 aprile dell'anno 30. Ormai conosciamo bene questa data. E hanno messo quella pietra tombale, credendo che ormai la morte abbia detto l'ultima parola. Non c'è più nulla da vedere, da ascoltare. Ecco, lo dicevi tu ieri, la sua storia appare un fallimento agli occhi del mondo, no? La comunità è spaurita, smarrita, molti sono andati via. C'è un corpo esanime, chiuso da quella grande pietra, inaccessibile. Un giorno segnato dall'Aporia. Ecco, il giorno più lungo. Vorremmo che finisse presto, ma in realtà è un giorno che deve farci riflettere. Siamo posti davanti a quella morte, la morte di Gesù, che è una morte diversa, perché Gesù la sta attraversando. Perché la morte di Gesù è anche la nostra. Noi vorremmo accorciarlo quasi questo giorno, vorremmo quasi evitarlo in questo tritulo salvifico. Invece è necessario che ci sia questo giorno, tra il venerdì e la domenica, perché ognuno di noi possa essere costretto quasi a combattere per conoscere la propria debolezza, per ravvivare la propria fede, per essere vittoriosi su quella nullità che ci portiamo dentro. Noi costruiamo a volte sul vuoto. Ma il sabato santo che cosa testimoni in realtà? Non il vuoto, come pensiamo noi, ma che Gesù è andato fino in fondo. Gesù, come dire, ci ha chiesto di andare in profondità, l'ha detto a Pietro quando gli ha detto prendi il largo, in realtà gli ha detto vai nel profondo, di accogliere anche il buio che avvolge l'enigma, perché dentro quella morte c'è davvero la forza dello Spirito Santo. Noi dobbiamo credere in quegli ultimi due titoli del credo, credo nella resurrezione della carne, credo nella vita eterna. Sì, Dio è attivo anche nella morte, anzi, la morte di Cristo, ha detto Paolo in seconda conizia, è una morte attiva e da questo enigma addirittura viene fuori nel mistero il senso di tutte le cose. Noi dobbiamo veramente vivere questa esperienza del sabato santo lasciando posto al silenzio, a non saper dire nulla, perché lo scandalo della croce ha gettato un'ombra. dobbiamo imparare a stare davanti a questo mistero e bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore, ha cantato il profeta nelle lamentazioni. E se è vero che questo silenzio e questa attesa possono stringerci il cuore, però nelle nostre profondità dobbiamo andare a ripescare se davvero ci siamo affidati a quel Cristo che in croce ci ha rivelato, fino in fondo, il Padre. Noi dobbiamo veramente dire quel pastore sembra che se ne sia andato, ma lui è il Signore di vive e dei morti. Noi proclamiamo nel credo che è sceso agli inferi, nelle profondità irredente dell'uomo, per andare a portare quella salvezza che noi non possiamo darci. Nessun uomo può dare la salvezza a se stesso o all'altro. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Allora in questo sabato santo scende nelle profondità degli inferi, ma anche del nostro cuore, per incontrare tutti, anche quelli già morti. E oggi ancora scende in questo sabato santo nelle nostre profondità, quelle che ancora attendono il Vangelo. Va dove noi abbiamo dentro le ombre, la morte, il limite, questa tesciucà, questa bramosità verso l'altro. Dio vuole operare dentro di noi. Perché vedete, nella vita dello spirito bisogna andare fino in fondo. Cristo ci precede sempre e poi ci attende a braccia aperte. Oggi è il giorno di un'attesa che ha un termine. Il nostro lamento di ieri deve dare posto a un cantico nuovo. Il nostro stare sulle terre di morte deve diventare una danza di gioia, perché Gesù risorge e il Padre lo risuscita. Lui asciugherà le nostre lacrime, ma ci deve fare attraversare la nostra vita e anche la nostra morte. Ecco perché è importante in questo giorno far risuonare la nostra fede in Lui. Noi ci fidiamo di Lui come Abramo, come Maria di Nazareth, come Giuseppe, lo sposo castissimo di Maria? Ecco perché siamo in attesa che quella tomba venga scoperchiata. La resurrezione è la vittoria sulla morte. Il terzo giorno porterà questa tomba vuota. E gli angeli lo diranno. Uccode, non è qui, è Gert, è il risorto, l'aveva già detto. Ecco perché il sabato santo inizia quel giorno, se ci riflettiamo bene, che è senza fine. La liturgia dice che la Pasqua è quel giorno senza tramonto. Comincia quel giorno, la Pasqua di Gesù, che ci farà arrivare fino in fondo a quel giorno ultimo, quando il sole sorgerà e non tramonterà più. Sarà il giorno in cui il risorto consegnerà a noi la partecipazione alla vittoria sulla morte. Ecco perché il sabato santo inizia questo cammino e noi dobbiamo viverlo giorno per giorno. Stanotte canteremo l'alleluia finalmente e ancora una volta diremo al Signore noi ci fidiamo di Te, Tu sei il sostegno della nostra vita, noi aderiamo a Te perché la fede nella Pasqua è veramente l'inizio e il compimento di tutto il nostro cammino. E anche noi come i discepoli siamo pronti per annunciare, non è qui, è il risorto. Certo, anche noi dobbiamo essere pronti, ma dobbiamo fare l'esperienza di questo evento. La Pasqua è un evento che vuole essere vissuto e dobbiamo viverlo giorno per giorno. Lo Spirito ci aiuta a passare continuamente dalla morte alla vita. Ogni qualvolta lo Spirito vince dentro di noi le zone di ombre e di morte, noi viviamo la Pasqua in attesa di quella parte finale. Ma già oggi è iniziata la Pasqua dentro di noi. E ogni giorno inizia dentro di noi l'opera dello Spirito Santo, il quale deve continuamente rivedere. Perché se ci pensiamo bene, il paradiso e l'inferno ce lo scegliamo già qui, nella misura in cui crediamo in Lui. Se crediamo in Lui e custodiamo i Suoi comandamenti, lo Spirito ci umanizza giorno per giorno. Allora la morte non sarà altro che il sigillo finale, l'attraversamento e l'abbandono nelle sue mani. Chiuderemo gli occhi su questa storia e li apriremo verso l'eternità nella quale possiamo ancora camminare, migliorare, studiare, apprendere e potremmo davvero capire fino in fondo il mistero ed essere finalmente in Dio, completamente. Grazie Padre Ernesto. In attesa di celebrare la madre di tutte le veglie, la notte in cui la morte non è riuscita a fermare la potenza di Dio, noi ti diamo appuntamento a domani per celebrare insieme Cristo risorto. Certamente. E buon silenzio e soprattutto in ascolto della parola. In ascolto della parola. Shalom. Shalom. Shalom.